Salve, benvenuti all'oroscopo del giorno. Iniziamo subito con il primo segno che è a rete. Avete preso delle piccole decisioni per il rapporto affettivo che state vivendo, ma ora non vi convincono più. Può capitare di tirarsi indietro e di ripensarci, ma dovreste quantomeno rifletterci meglio oggi. Toro, ogni volta che prendete delle decisioni accade qualcosa ultimamente che vi costringe a tornare indietro. Non abbattetevi, non è da voi. Dovete prenderla come una occasione per dare ancora di più rispetto a quando avevate preventivato. Gemelli, ci sono dei vincoli che non potete assolutamente sciogliere. Quindi vi toccherà conformarvi per il momento alle decisioni che verranno prese intorno a voi, specie se la maggioranza è d'accordo. Cancro, cancro, potrete intervenire in diversi ambiti del vostro lavoro, cercando di migliorarne le condizioni. Oppure cercando di migliorare il rapporto con i colleghi e i superiori. Tuttavia tenderete prima di tutto di pensare al lato economico. Leone, potrete tenere saldi alcuni comportamenti, specie se di fronte a voi ci saranno persone con un carattere molto forte. Ad ogni modo, provate a mettere in conto qualche discussione, anche se non è il vostro forte. Vergine, optate per qualche attività ricreativa in questa giornata. Non necessariamente dovrà esulare dal vostro lavoro o dai vostri impegni familiari, perché anche in questi casi potreste divertirvi lo stesso. Bilancia, è possibile che stiate dando per scontate alcuni comportamenti del partner, oppure di qualcuno nella vostra famiglia. potreste avere addirittura sottovalutata alcune delle vostre sensazioni. Approfondite il tutto oggi. Scorpione Scorpione Capita da volte di essere sminuiti o sottovalutati da qualcuno che non conosciamo. Ma questo avviene il più delle volte, perché si vuole avere subito chiara l'impressione di qualcuno. Non potete biasimare i vostri interlocutori. Sagittario Non mettetevi subito sulla difensiva, perché quello che accadrà oggi potrebbe farvi cambiare idea su una persona o su una situazione. Ascoltate fino alla fine dunque, se qualcuno vi parlerà, oppure cercate di essere un tantino più reattivi, quando troverete un ostacolo sulla vostra strada. Capricorno Capricorno Portate avanti il vostro obiettivo, perché questa giornata potrebbe essere fondamentale per voi. Invece di mettere a confronto i risultati altrui, pensate ai vostri e a come migliorarli eventualmente. Capricorno Acquario Se non avete ancora compreso quali devono essere le vostre mansioni, in questo periodo è bene che vi possono essere delle aperture e degli adattamenti. Almeno per un po', fino a quando non sarete entrati meglio nel meccanismo. Pesci Alcuni risvolti negativi di una vicenda potrebbero raccicinarvi in un ciclo vizioso oggi, fatto di spiegazioni poco convincenti e sensi di culpa. Aspettate che si cammino le acque per parlare apertamente. Ragazzi, per oggi l'oroscopo finisce qui e io vi ricordo di seguirmi sui miei social, iniziando da Facebook come Peppe Channel, personaggio pubblico. Poi ho su Instagram come peppe-channel-real. Ok? Poi, TikTok dove ho due account. Il primo è peppe-channel-real e il secondo è peppe-channel-good. Mentre su Twitch come peppe-channel-real. Ok? Un bacio! Ciao ciao! Ciao ciao!